No, every day I was born, the nurses all gathered round, and they gazed in a wide window, and the joy they had found, the headless smoke up, so leave me alone, she could tell right away, that I was bad at the bone, bad at the bone. Benvenuto a Luca Giglioli! Ciao Luca! Ciao Fusso! Allora, com'è andata questa trasferta a Romagna-Lazio? Tutto bene, tutto bene. Tutto è in moto? No, no, quasi. Ah, quasi. Ho fatto lì e lì. Lì e lì. Cinque metri e va bene. Siete arrivati in gruppo, mi presenti qualcuno? Lì in fondo ci sono i quattro del mio gruppo. Eccoli là, ciao! Ne mancano tre all'appello che non sono potuti mica riuscire a venire. E poi chi c'è? Abbiamo i miei due genitori, papà e la mamma. Papà e la mamma pure in moto, non ci credo. Fatevi vedere. Salite sulla passerella, mamma e papà. Mamma Annalisa e papà Filippo. Buonasera, benvenuti. Sì, buonasera, buonasera. Beh, insomma. Mamma e papà, papà, Filippo e mamma Annalisa. Siete decisamente due genitori rock, molto rock direi. Facciamo il possibile. Sì, sì, sì. Grazie. 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 Grazie.